Lunedì sera check-up obiettivo Salute, terza stagione, benvenuti a tutti voi carissime telespettatrici e carissimi telespettatori. Questa sera nel nostro salotto di Fisioradi abbiamo un nuovo ospite, è la prima volta che incontriamo infatti il dottor Fabrizio Balzi. Dottore buonasera. Buonasera a lei. Fanese, quindi delle nostre terre, davvero vicino al luogo dove ci troviamo, il dottor Fabrizio Balzi è esattamente specialista in radiodiagnostica e scienza dell'immagine, che vorrebbe dire medico-radiologo, il radiologo e chiaramente ci troviamo in una struttura nella quale questa particolare branca della medicina è parecchio sviluppata, dottore. Si, vero, diciamo è cominciata chiaramente in altro modo, perché tanto radi è prevalentemente un fisioterapista, dopo ho cominciato chiaramente, ma già diversi anni anche a fare tipo poliambulatorio, quindi con vari specialisti, e circa quattro anni fa mi ha contattato per fare delle ecografie prevalentemente muscoloskeletriche, perché la patologia prevalente qua, almeno al tempo, era soprattutto quella. Quindi ho cominciato prima come ecografista, io comunque vengo da 25 anni di sanità pubblica, ho lavorato quindi in ospedale nell'area vasta, di Pesaro, no, di Urbino, Cagli, Sesso Corvaro. E poi niente, sono venuto via, quindi ho accolto l'occasione, visto che stava cercando un ecografista, sono venuto, mi sono isolato bene. Prima venivo una volta ogni tanto, settuariamente, quindi da due volte al mese, poi sono passato a tre, poi a quattro, poi praticamente adesso vengo due giorni a settimana. E poi fortunatamente si è aperta questa cosa, di questo nuovo centro, dove sono state messe in campo strutture di alto livello, dalla TAC alla risonanza alto campo, adesso la TAC recentissima, a 128 strade, quindi di altissimo livello, la risonanza, abbiamo quattro ecografi, la mammografia, la MOC, quindi la densitometria ossea, e la radiosidia tradizionale, quindi praticamente tutto quello che ci può essere anche in un ospedale, anche, insomma, non piccolissimo, ecco. Ecco, e questo è un dato importantissimo perché la diagnostica, in pratica, ci permette di capire la natura di un problema di origine muscoloscheletrica e poi di affrontarlo. Certo, non solo muscoloscheletrica, come magari affronteremo più avanti, però certo. E qui appunto ci sono anche vari specialisti che fanno la muscoloscheletrica, quindi abbiamo ortopedici di livello anche parecchio alto, e quindi ortopedici di spalla, ortopedici di mano, polso, che possono fare un po' tutti i distretti. Di conseguenza poi passano la palla a noi e noi dobbiamo scoprire l'assassino, cioè dobbiamo cercare, capito, di unire magari la fase clinica a quella per immagini. Di conseguenza, in base a quelle, cercare di capire quale può essere la patologia e eventualmente poi in un secondo tempo da trattare in maniera più, la più efficacia possibile. Esatto, infatti anche qui c'è tutto un percorso, un percorso da intraprendere e una strada ben precisa da percorrere per arrivare alla soluzione del problema, dottore. Certamente, sì, il percorso che fra l'altro è anche quello che onestamente io consiglio sempre anche ai pazienti, nel momento in cui c'è un sintomo è importante rivolgersi a un clinico, che può essere per carità anche il medico di base, per certe cose, chiaramente non per tutto, ma il medico di base fanno... Esatto, il più delle volte è il primo, no? Il più delle volte è il medico di base, esatto. Il medico di base che fa già un lavoro molto importante, però chiaramente non può sapere tutto su tutto, per cui il clinico è sicuramente il primo riferimento. Di conseguenza poi il clinico fa una visita, in base alla visita poi, diciamo, mette insieme una serie di ipotesi, che è quello che noi chiamiamo di angio differenziale, cioè praticamente un unico sintomo può essere di più patologie. Di conseguenza, capito, lui ci può rivolgere la domanda, ha fatto guardami bene questa cosa, perché in questo sintomo io vedo questo tipo di patologia. E in conseguenza poi il clinico ci indirizza molto su quello che è la diagnostica da usare, perché non tutti gli esami sono uguali, uno magari pensa che so, faccio una lastra, no? C'ho dolore e qui... Esatto, in termini generalisti. Invece sono veramente pratiche tutte l'una diversa dall'altra, strumenti l'uno diverso dall'altro. Che si basano anche su principi fisici diversi, dalla radiologia tradizionale che usa le radiazioni ionizzanti, così come anche la TAC, dall'ecografia che usa degli ultrasuoni che funzionano tipo il sonar, partono praticamente degli impulsi, incontrano una struttura, tornano indietro e ci danno un diverso tipo di segnale secondo le strutture che vengono attraversate, alla risonanza magnetica dove c'è un campo magnetico che dopo c'è il discorso un pochino più complicato, degli elettroni eccetera eccetera, però sono tutte cose molto diverse e danno cose diverse, per cui se uno vuole studiare l'osso, già una radiologia tradizionale, già qualche informazione la dà. Uno pensa che no, sia un po' obsoleta la radiologia, ma non lo è, è ancora un esame molto importante, seguendo i criteri di correttezza giusti, che conoscono ovviamente i tecnici e noi, però dobbiamo sapere che cosa dà un certo tipo di esame, perché se no si rischia di fare, alcuni ce lo prescrivono magari anche da suoli, però che cosa può dare un certo tipo di esame piuttosto che un altro, uno magari che so, ha una tendinopatia, ha un tendine infiammato, se ha un tendine superficiale, l'esame migliore è l'ecografia, però magari uno dice, ho dolore lì, faccio una lastra, oppure magari fa anche addirittura una risonanza, quando magari se il tendine è molto superficiale, come il tendine d'Achille, come il tendine rotuleo, ci sono alcuni tendini che si studiano meglio di tutti con l'ecografia, che ha anche il vantaggio di poterlo fare in fase dinamica, cioè di poterlo fare quando il paziente ha modo di potersi muovere, e quindi lo possiamo vedere anche in movimento, cosa che non si può fare con la risonanza, quindi ogni cosa ha il suo, e quindi di conseguenza scegliere la diagnostica migliore spetta anche a noi, però è chiaro che abbiamo bisogno di un supporto clinico, se il clinico non ci indirizza, e purtroppo, cioè purtroppo, dopo io chiaramente spesso lo dico anche ai pazienti, però può capitare che il paziente dica anche, beh però io vado, se vado dall'ortopedico ci devo andare con qualcosa, no? Sì, questo può essere anche giusto, però secondo me, se si vuole cercare bene un problema, soprattutto in patologia muscoloscheletrica, di cose anche un pochino complesse, l'idea migliore è quella di fare prima una visita clinica, il clinico ha delle manovre da fare, che risvegliano il dolore per certi movimenti, e quindi ti permette di capire, guarda, sospetto questo, sospetto quest'altro, a quel punto il clinico dice, qual è l'esame migliore che mi permette di vedere quello, può essere anche una banale lastra, o può essere la risonanza, o può essere l'ecografia, però a seconda del distretto, a seconda del tipo di patologia, il clinico ci dice, tornami con questo esame, in modo tale che noi sappiamo cosa cercare, perché spesso ho capito, magari che so, fai un eco del polso, noi cerchiamo, 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 senza sapere a volte che cosa dobbiamo trovare, quindi le cose che possiamo vedere le segnaliamo, ma è un'altra cosa, se viene prima il clinico, che dice, ora è sospetto una lesione di una fibrocartilagine del polso, a quel punto lì dicevano, no, l'ecografia può non servire, facciamo una risonanza, cioè è diverso, e arriviamo prima a trovare l'assassino, come dicevo qui, quindi il giusto iter per risolvere il giallo, quindi dottore è quello di andare dallo specialista, dal clinico, e in seconda battuta, su indicazione dello specialista, del clinico stesso, venire dal radiologo, per approfondire e vedere di cosa si tratta, ma questo potrebbe essere fatto anche in termini di prevenzione, cioè cosa voglio dire, un piccolissimo sintomo, una prima cosa, io decido subito di affrontare di petto la situazione, questa è una sorta di prevenzione, certo, ma la prevenzione si può fare anche senza sintomi, anzi nella maggior parte dei casi, diciamo che sarebbe meglio, si chiama prevenzione, per prevenire i sintomi, esatto, quindi sostanzialmente, anche, ne parlerò forse dopo anche del discorso, dei pacchetti che abbiamo messo in campo qua, e pacchetto uomo, pacchetto donna, dove si studiano diversi distretti, sia dell'uomo che della donna, a scopo di tutto preventivo, in assenza di sintomi, perché purtroppo le patologie più serie non danno sintomi, di conseguenza ci troviamo spesso a trovare una sorpresina, quando magari cerchiamo altre cose, a noi ci capitano spesso pazienti che vanno a fare l'ecocolor doppler, quindi studiano i vasi del collo, e trovano il nodulo della tiroide, e ce lo mandano a noi, a me è capitato più volte, quando lavoravo in ospedale pubblico, pronto soccorso, incidente, magari non ha niente, però li trovi, che so, una neoplasia del rene, oppure ci ho capito, mi è capitato più volte, di trovare cose diverse, da quelle che cercavamo, per cui se uno da solo, anche evidentemente, anche se è in assenza di un sintomo, si propone da solo, e periodicamente, non è che uno deve fare chissà quante volte, però ho capito, facendo questa cosa, spesso si può, che so, un'ecografia della do, io per esempio, me la faccio da solo, certe volte, e beh lei ha questo vantaggio, ce lo faccia dire, esatto, io ho questo vantaggio, mi sono seguito diverse patologie, soffro di coliche renali, mi servivo il calcolo, proprio centimetro per centimetro, mentre mi scendevo, per cui capito, però ecco, chiaramente, io questo è un vantaggio mio, però capito, lo possono fare anche, o un po' tutti. E forse era questo il senso, dei pacchetti di cui parlavi? Esatto, il senso è proprio questo, il pacchetto uomo, infatti, mettiamo l'eco addome, l'eco della prostata, per via sovrapubica, che non è che dà le informazioni, più esaustive, però è un primo livello, poi mettiamo anche il prelievo del PSA, e ci permette di vedere il volume della prostata, quanto è grande, se impronta il pavimento vescicale, se fa l'ipertrofia del trigono, il residuo post-medizionale, sono tutte cose che possono servire all'urologo, quando uno si presenta con questo, è chiaro che se uno poi ha una patologia un pochino più, importante da dove andare a fondo, ci sono altri esami, c'è la translettale, c'è la risonanza multiparametrica, che fra l'altro facciamo anche qua, che sono esami di secondo livello, molto appropriati e molto specifici, da lì poi, magari anche la biopsia e tutto il resto, però capito, come prima cosa, queste cose qui, poi fra l'altro nel pacchetto c'è anche l'eco scrotale, per intenderci, e come prima cosa è utile, così anche per la donna, quindi il seno, la mammografia e l'ecografia, l'ecoaddome, quindi uno ha la possibilità di poter vedere più cose, e quindi insomma, perlomeno dare una... Una sorta di screening, appunto, una sorta di screening preventivo, che permetta di avere un quadro ampio della situazione. più o meno è quello, un po' funziona come lo screening, quello che si fa un pochino, lo screening della mammella, ti chiamano di due anni, oppure il pap test, però sulla prostata non c'è un vero e proprio screening, capito, per cui, siccome tanto la prostata, i maschietti, si ingrossano, poi c'è poco da fare, è fisiologico, è fisiologico, di conseguenza, chi ha più o meno sintomi, poi, ebbene, insomma, un controllino, non fa male, questo in assenza di sintomi, dopo invece, con la sintomatologia, il discorso è un po' quello che facevamo prima. Esatto, allora, questa branca della medicina così, magari poco conosciuta, della quale si parla poco, la radiologia, perché magari il medico radiologo neanche lo si vede, perché viene effettuata la prestazione, ma... di uno di cui si parla poco, perché si crede che sia destinato a persone, come dicevamo prima, che magari già hanno problemi di prostata, il golf, ma così non è, perché, perché in realtà, il golf piace molto anche ai giovani, e lei ne è la dimostrazione, perché c'è un figlio di 24 anni che gioca a golf. Esatto, e lui si è appassionato, perché mia sorella gioca a golf da tanto tempo, e quindi un giorno l'ha seguita, faceva il portamazza, il caddy, il caddy, che lei ha confessato di non fare, che non faccio, però, si è appassionato, lui è tornato a casa dicendo, voglio farlo, capito, questo ormai 7-8 anni fa, quindi non da, quindi lui ha iniziato, aveva 17, molto giovane, e allora, 16 anni, mi rispondo a questa domanda dottore, non è detto che, non credo che la radiologia, si possa definire la branca più difficile della medicina, perché ce ne sono tanto, sì, magari quella meno, ecco quella, però, in molti dicono, senza aversi mai giocato, che il golf, in realtà, è lo sport più difficile di tutti, perché? Eh, perché, io lo dico perché ci ho provato anch'io, perché, e non ci hai riuscito, e non ci sono riuscito, perché prende la pallina, ha lasciato perdere, perché è uno sport estremamente tecnico, uno pensa che sia, soltanto così bello, rilassante, e lo è, però, tecnicamente, è estremamente difficile, a parte che c'è, una mazza per ogni tipo di colpo, quindi il colpo lontano, quello da media distanza, la corta distanza, il pat finale per entrare in buca, quindi ogni, e quindi ogni movimento, va fatto per ogni singolo mazza, che prendi, poi di ogni mazza, ci sono vari tipi, le ferri, ce ne sono 7, 8, ed è per quello che serve il caddy, Che le porta, bravo, esatto, e quindi, a volte, capito, quando comincia a giocare, a livello non mio, perché, esatto, di suo figlio, però, anche se mio figlio, ho capito, vedo che proprio, con i maestri, allenatori, proprio, vai con micro regolazioni, di mezzo centimetro, sull'impugnatura, il movimento, poi ti, ti filmano, ti guardano l'asse delle spalle, esatto, vede che quindi, ci sono dei punti di contatto, con la radiologia, bisogna andare a vedere, bisogna andare a vedere, le micro regolazioni, le micro regolazioni, dottore, grazie davvero, è stata una chiacchierata, molto simpatica, di niente, di niente, non solo simpatica, ma anche molto utile, perché abbiamo detto, cose utilissime, sicuramente, i nostri telespettatori, e le nostre telespettatrici, ne faranno tesoro, dottore, sono contento, grazie mille, buona giornata, grazie a voi anche, per essere stati con noi, fino a quest'ora, ci vediamo lunedì prossimo, c'è capo Obiettivo Salute, buona serata a voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.